e passiamo ora che dedichiamo a tutti i quali che anche se non lo conoscono magari prossimamente andranno a vedersi un signore qualche filmato su youtube un signore che si chiamava R.L. Bronsard che veniva sulle cordine del Mississippi tipo Oxford e che suonava questo genere che si chiamava Ear Counter Blues and the next is called Nervous Muscle un come un'un fai un'un fai avevo un'un fai un'un fai ai amorn un'ما Al prossimo episodio Noi sono muscoli so in pain, but I'm keen to see the pain I'll be out of all this storm, sail in my road It's time I ask for the shelter Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.